Oggi abbiamo qui con noi Annibale, volontario. Tu conosci Ant perché i tuoi genitori avevano ricevuto l'assistenza, è corretto? Allora, è corretto nel senso che avevamo cercato Ant nel momento in cui i miei genitori purtroppo hanno avuto bisogno di avere assistenza a casa. E quindi da quella storia poi è nata la mia conoscenza verso Ant. Io la tua la definisco una storia molto bella di volontariato perché tu dopo una vita di lavoro da dirigente, super stressante, hai deciso di entrare a fare volontariato perché volevi impegnarti fisicamente. Invece però? È proprio così, io dopo 45 anni di lavoro, stressante è vero, però con soddisfazione, però avevo bisogno di staccare la mia testa diciamo da queste cose. E avendo conosciuto Ant da parecchi anni ho chiesto di poter fare il volontario ma di andare a piantare gazebo, a fare queste cose proprio molto manuali. E da lì è iniziata un po' la mia storia che è durata pochissimo come manovale diciamo dell'Ant perché a suo tempo mi hanno impegnato poi invece su altre cose, altri progetti di cui mi sono occupato in questi anni di volontariato. Diciamo che ti hanno scoperto. Anche uno è andato a, come si dice, in dialetto bresciano, a Napà, nel curriculum vitae, ha scoperto quello che avevo fatto e ha detto ma secondo me è meglio che tu ti impegni in altre cose. Ti hanno sgamato come si suol dire e da lì quindi tu ti sei occupato e ti occupi di ideare e far nascere, far vivere alcuni progetti, ce ne sono di molto interessanti quindi mi parli di alcuni progetti che hai sviluppato. Allora abbiamo in questi anni ho lavorato da volontario evidentemente su due progetti importanti per l'attività Ant che servono poi per dare assistenza a chi ne ha bisogno. Ho seguito la realizzazione del paniere delle eccellenze bresciane e che è praticamente il paniere che viene proposto alla cittadinanza, alle aziende, a tutti coloro i quali vogliono dare un sostegno all'Ant con le eccellenze di produzione bresciana. Essendo io di estrazione agricola, avendo sempre lavorato nel settore agricolo, abbiamo fatto un accordo di collaborazione con alcuni consorzi di tutela dei prodotti bresciani, per la precisione il Grana Padano, eccellenza assoluta, il consorzio del Franciacorta, anche quello credo un'eccellenza assoluta, il consorzio del Provolone. Poi negli anni abbiamo avuto anche la collaborazione con gli apicoltori per il miele, con le associazioni olivicole per l'olio, poi man mano il paniere ha cambiato evidentemente la sua composizione. Diciamo che attualmente permangono i tre prodotti di eccellenza, Grana Padano, Provolone e Franciacorta. Poi l'altro grande progetto, quello a cui io ambivo più di tutti da poter chiudere e realizzare, era l'acquisto del bus della prevenzione. La prevenzione come sappiamo è una delle attività importanti di Ant, la prevenzione è una cosa assolutamente importante per poter tutelare la nostra salute e grazie all'aiuto di donatori importanti siamo riusciti in pochi mesi, sei mesi per l'esattezza, ad acquistare il bus della prevenzione che proprio in questi giorni sta già lavorando sul nostro territorio, sul territorio lombardo, in Piemonte, Liguria, eccetera, eccetera. Annibale, grazie per quello che fai. Grazie a te per l'intervista e grazie a Dante che mi ha dato questa possibilità. Grazie a tutti.